Ricordi di un terremoto. Non è solo una mostra. L'evento messo in campo per il decennale dal maestro Giancarlo Ciccozzi è un ricordo fatto di arte, musica e poesia, con grandissimi esperti del panorama dell'arte nazionale e internazionale che sono presenti all'Aquila. Lo scenario è quello del Palazzo dell'emiciclo, dove la mostra viene inaugurata per rimanere aperta sino al 17 aprile e nella serata di inaugurazione tanti eventi collaterali. Contiamo di esporre circa una ventina di opere, anche di grandi dimensioni, compresa una che verrà donata all'ente, qui alla presidenza della regione Abruzzo. È corroborato anche il lavoro fatto anche dai miei amici critici d'arte ed esperti d'arte, come il professor Maurizio Vitriello, che ha curato la parte, diciamo, tecnica per quanto riguarda il dottor Rosario Spravieri del MIBAC, il dottor Cotarelli, esperto e curatore teatrale, critico teatrale, il mio gallerista Armando Principe, che mi cura un po' la parte, diciamo, esposicola commerciale per quanto riguarda la manifestazione di questa sera. Non è solamente un'esposizione d'arte, ma si rivolge anche al contesto di quanto riguarda il decennale del terremoto, quindi anche una commemorazione del terremoto con uno spettacolo del maestro De Angelis, che suonerà, come ben sapete, maestro di violoncello, Franco Narducci, che reciterà una mia poesia edita nel 2010, e Gemma Maria La Cecilia, che concluderà con uno spettacolo di teatro-danza. Il tutto, naturalmente, verrà, diciamo, aiutato anche da tutto lo staff della Presidenza del Consiglio della Regione, alle quali va il mio particolare ringraziamento per tutta l'organizzazione. È un artista fortemente emergente, di piano nazionale, poi lui lavora anche su un piano europeo, diciamo, famoso in tutta Europa e ora si affaccia anche verso l'America. Io credo che sia un artista che sul campo informale abbia molto ancora da dire e credo che questo suo impegno nei confronti dell'Aquila sia premiante. L'Aquila è stata colpita da un terremoto devastante di dieci anni fa. Io proprio stanotte ho rivisto le immagini di dieci anni fa e quelle attuali in un servizio di Vespa sul primo programma, sul Rai 1, e c'è ancora molto da fare. Io credo che la cultura possa dare alito, diciamo, a un vento che porti consiglio e che riporti qui un flusso turistico. Io penso che l'Aquila debba anche ritornare sotto l'aspetto musicale. Voi qui avete una sala stupenda dove hanno suonato i più grandi musicisti, quindi aprirsi anche alla musica e come no, ma anche ritenere la cultura, le arti visive contemporanee, un pegno d'amore verso questa terra che è stata colpita. Io credo che l'Aquila dovrebbe ritornare su di un piano culturale come è sempre stato, diciamo, di impulso e di interesse verso l'orizzonte culturale.